L'UGL Unione Territoriale di Lecce è stata ai primi del mese commissariata su decisione della segreteria confederale nostra. Al momento sono stato nominato io come reggente dell'Unione Territoriale. Il Antonio Verardi, vecchio segretario, al momento non è titolato a rappresentare l'Unione Territoriale. Abbiamo anche, principalmente per una questione di spazi, provveduto già a trovare una nuova sede. Quindi al momento la nuova sede dell'Unione Territoriale di Lecce è in via Don Bosco numero 47. Ed è quella da oggi che verrà considerata come la sede ufficiale dove verranno svolte tutte le attività dell'UGL. Voglio tranquillizzare principalmente tutti gli iscritti. I nostri iscritti, questa situazione di commissariamento non muterà assolutamente il rapporto di tutela di tutti i nostri iscritti. in quanto le federazioni con i loro segretari eletti dai vari congressi continueranno ad operare sul territorio. Cercheremo in questo nuovo corso di offrire sempre più servizi maggiori e maggiori tutele.